E' ancora sequestro record di droga al porto commerciale di Salerno dove nell'ambito di specifici controlli straordinari del territorio, in particolare che riguardano proprio lo scalo da tempo, crocevia di traffici illeciti, carabinieri e finanzieri dei comandi provinciali di Salerno con l'ausilio dell'Agenzia delle Dogane hanno sequestrato 157 chili di cocaina. La droga era occultata all'interno di due distinti container provenienti dall'estero. La droga sequestrata, mescolata con sostanze da taglio e venduta al dettaglio, avrebbe fruttato circa 70 milioni di euro alle organizzazioni criminali alle quali era destinata. E ora sono in corso indagini dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dal Procuratore della Repubblica Giuseppe Borrelli al fine di identificare i responsabili e mettere in piena luce i canali di approvvigionamento delle stupefacenti e il conseguente smistamento nel mercato clandestino della droga.